Ciao, sono Luca Vanin e insieme a Fabio Ballor di insegnalo.it ci siamo posti una domanda, ci siamo chiesti è possibile imparare a fare un webinar in meno di tre ore? La risposta è stata ovviamente positiva ed è nato un corso, Speed Webinar, un corso molto particolare che ha una caratteristica, in sole tre ore ti permette di imparare tutto ciò che ti serve per fare il webinar. Come funziona? Funziona in modo molto semplice, abbiamo pensato ad un webinar di tre ore in cui ti spiegheremo tutto ciò che ti occorre per realizzare il tuo primo evento online, sole tre ore in cui ti spiegheremo come predisporre ad esempio i contenuti, come preparare i materiali, come promuovere il tuo evento ma soprattutto quale strumento utilizzare per ottenere il massimo risultato. In particolare useremo Hangout, una piattaforma di Google molto diffusa, abbastanza semplice da utilizzare che ti permette di ottenere ottimi risultati in pochissimo tempo. Abbiamo pensato a questo corso intensivo di tre ore in cui ti spiegheremo tutto ciò che occorre per realizzare il tuo primo evento, al quale seguirà un secondo webinar di domande e risposte in cui avrai la possibilità di interagire dal vivo con noi online, quindi comodamente da casa tua, come per il primo webinar effettivamente, e trovare risposte a tutti i tuoi dubbi. Oltre a questo abbiamo pensato a tre strumenti indispensabili. Prima di tutto il daily coach, una mail al giorno ti raggiungerà nella prima settimana e ti fornirà ulteriori indicazioni su come procedere nel tuo lavoro di progettazione e realizzazione del tuo webinar, quindi delle indicazioni ben precise che ti permettono di realizzare subito il tuo evento, quindi essere online già nella prima settimana. Successivamente abbiamo pensato ad un forum di discussione, quindi potrai interagire con non solo gli altri partecipanti ma anche con Fabio ed io che risponderemo a tutte le tue domande e forniremo un nostro feedback a eventuali tue idee di progettazione e di realizzazione. Poi abbiamo pensato di offrirti un webinar toolkit. Che cos'è? È un insieme di risorse molto preziose che ti permettono di semplificare molto il tuo lavoro di progettazione. Ad esempio nel webinar toolkit sono inclusi alcuni ebook, tra i quali spiega ovviamente webinar marketing che ti spiega come promuovere e lanciare il tuo webinar e una serie di template, ovvero degli schemi che puoi applicare immediatamente ai tuoi contenuti. Un esempio? Cosa scrivere nella mail di invito? Come inoltrare l'invito ai tuoi partecipanti? Poi come fare per spedire in modo elegante la registrazione dell'evento? Ecco, nel webinar toolkit troverai proprio questo tipo di risorse. Speed webinar è un corso che ha una struttura ben precisa che abbiamo progettato negli ultimi mesi a lungo sulla base della nostra esperienza, oltre mille ore di webinar di tutti i tipi e su tutti gli argomenti possibili e immaginabili. La struttura quindi prevede in estrema sintesi tre ore di formazione dal vivo il sabato 14 dicembre dal mattino, direttamente con Fabio Ballor e il sottoscritto Luca Vanin, la registrazione del corso per poter rivedere e riesplorare gli elementi che noi presentiamo durante il corso, le slide ovviamente presentate in questo webinar intensivo e il manuale degli esercizi che ti permetterà di semplificare il tuo lavoro di progettazione. Poi il forum di discussione come abbiamo già visto, il daily coach ovvero questo supporto quotidiano per la prima settimana di lavoro, il webinar toolkit, questo insieme di risorse preziosissimo e assolutamente non disponibile al momento in Italia, l'abbiamo progettato apposta per questo corso e questo secondo webinar dopo qualche giorno dal primo di domande e risposte. Abbiamo pensato a due percorsi, uno intensivo e uno estensivo, quello intensivo è per chi ha abbastanza fretta, non vuole perdere tempo e vuole immediatamente agire online ed è indicato dagli elementi che vedi scritti in nero. La formula invece extensive ha una struttura più ricca ed è adatta a chi vuole prendersi il tempo giusto per realizzare il proprio webinar e include oltre ovviamente agli elementi della formula intensive anche gli elementi che vedi scritti in rosso, il daily coach, il webinar toolkit e il webinar di FAQ. Ora, il nostro corso ha una caratteristica, non verrà presentato per buona parte del 2014, pertanto se tu ti iscrivi immediatamente all'indirizzo che vedi in questa pagina otterrai un vantaggio competitivo rispetto ad altre persone che non partecipano. Esistono delle formule vantaggiose nei prossimi giorni e noi ti consigliamo di iscriverti a webinar pro e insegnalo per avere accesso a queste formule vantaggiose. Il prezzo è contenuto perché il nostro obiettivo è quello di averti con noi in aula e poter discutere con te di come realizzare il il tuo webinar in modo concreto. Ti aspettiamo, siamo assolutamente felici di di proporti questo corso e siamo sicuri che saprai trarne il massimo vantaggio. Ti aspettiamo online su Speed Webinar, il tuo webinar in meno di tre ore. Ciao!